Ciao, oggi giochiamo a Bibi Racing Go e ho una bellissima notizia Guardate a sinistra in alto E si sono arrivato a livello 10 Finalmente ce l'ho fatta, un attimo Ok ragazzi, andiamo Ma a livello 10 incredibile, adesso si ho fatto come voglia Oh no, ci posso leggere Guardate qua, guardate qua Guardate qua, guardate Sono fatissimo, sono a livello 10 Su Non mi fate niente Guardate qua, guardate qua Guardate qua, guardate qua Guardate qua, guardate qua, guardate qua 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 ah si perchè 6 la possibilità di utilizzarmi 6 è bassissima ma se mi passate attraverso le pareti o cosa? ora sembra una cosa dietro una cosa dietro adesso su che si ragione adesso su che sonvelo però fai una cosa tanto non ci sarebbe più sicuro infatti io assicuro al 100% che non c'è niente però voglio fare qua ce ne vorrà guarda qua 34.000 è impossibile va bellissimo livello 11 ce ne vorrà un anno c'è 12 e 9 livello 10 è veramente tosto ma proprio tosto come il tosto a colazione proprio quello proprio quello proprio quel tosto quello quello no non ci puoi fare niente un po' altro no no stavo a tagliare adesso e adesso ok fatto perfetto no vabbè ragazzi livello 10 uguale a guido vai vai usa questo proprio proprio uguale a guido ma adesso adesso oh oh mamma mia ma e ma qua tutti i oli Veloce questo, intenderanno! Questo non costa niente, capito? Via! Veloce su! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì che avevo fatto oh, non mi spinge Alla prossima 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 Alla prossima